c'è spesso molta confusione rispetto a due termini quindi lasciatemi spiegare la differenza nei timelapse le foto sono prese con un punto di vista statico nella maggior parte dei casi una fotocamera piazzata su un solido cavalletto per minimizzare ogni movimento un hyperlapse è la stessa cosa ma con il punto di vista in movimento con una fotocamera si tende per lo più a fare timelapse riprendere un hyperlapse non è semplice perché bisogna trovare un modo per muoverla i migliori risultati si ottengono con sliders ma sono ingombranti e pesanti e comunque permettono spostamenti molto limitati e devono essere motorizzati per mantenere una distanza costante tra ogni scatto a volte possiamo ottenere ottimi risultati da treni auto o bus un'altra possibilità è utilizzare un gimbal portatile ma ci sarà una quantità notevole di altri movimenti indesiderati non facile i droni sono in genere molto stabili quando avanzano o si muovono lateralmente e questo li rende estremamente adatti ai hyperlapse come slider giganteschi nel cielo per questo motivo con droni si tende a fare piuttosto hyperlapse come il video in generale timelapse e hyperlapse hanno bisogno di una scena con del movimento altrimenti una semplice foto magari animata è più interessante sono entrambe tecniche interessanti ma ciascuna è più adatta ad alcune specifiche situazioni gli hyperlapse sono interessanti per raggiungere movimento a una scena relativamente statica o per dare un'idea di vita urbana frenetica o di eccitazione o confusione ma quando una scena contiene già movimento interessante un timelapse può essere lo strumento migliore per concentrarsi sull'azione può essere il caso di un tramonto o movimento di nuvole automobili in una città barche nel mare e così via ho fatto moltissimi video su hyperlapse e timelapse di ogni tipo e in genere hanno parecchio successo mi viene spesso richiesto di trattare argomenti come i time lapse del tramonto o dell'alba come posteraborarli come controllare il motion blur e così via ho già trattato questi argomenti in passato ma ho pensato che sarebbe stato utile a molti fare una guida completa per tutto ciò che riguarda hyperlapse e timelapse ho diviso questo video in capitoli in modo da poter avanzare rapidamente a sezioni specifiche in ogni capitolo ho aggiunto collegamenti per chi desidera approfondire un argomento specifico per realizzare timelapse mitici in timelapse hyperlapse scattiamo una serie di foto ad un determinato intervallo queste foto sono quindi messe insieme in una sequenza video in video la frequenza in generale è 24, 25 o 30 fotogrammi al secondo innanzitutto dobbiamo scegliere il numero di foto in base alla lunghezza desiderata del timelapse di solito ho preso una lunghezza tra 10 e 15 secondi a meno che si tratti di tramonti o albe in Europa del Nord o Canada nel qual caso preferisco 20 a 30 secondi se prendiamo 300 foto e le inseriamo in una sequenza video a 30 fotogrammi al secondo il timelapse verrà riprodotto in 10 secondi poiché 300 diviso per 30 è uguale a 10 mentre in una sequenza video a 24 fotogrammi al secondo otteniamo circa 12,5 secondi il che va benissimo un altro motivo per cui mi piace usare 300 foto è perché rende molto facile calcolare il tempo di ripresa con l'intervallo di un secondo ci vorranno 300 secondi che divisi per 60 secondi al minuto equivalgono a 5 minuti quindi a un intervallo di 2 secondi ci vorranno 10 minuti un intervallo di 3 secondi 15 minuti e così via un altro fattore importante da scegliere in funzione della scena e del risultato desiderato è l'intervallo tra le foto aumentando il tempo tra ogni scatto il movimento sarà più rapido in hyperlapse in cui il punto di vista si muove rapidamente preferisco scattare una foto ogni secondo anche se poche fotocamere sono capaci di farlo nel caso di persone, automobili o barche scelgo un intervallo di 2, 3 o 4 secondi in funzione della velocità desiderata in paesaggi il cui il movimento è prevalentemente nelle nuvole utilizzo un intervallo di 4 o 5 secondi un intervallo di 5 secondi va bene per tramonti o albe nell'Europa del sud mentre nel nord Europa o in Canada da 6 a 8 secondi infine nel caso di fiori che sbocciano piante che crescono o costruzioni l'intervallo può arrivare anche a diversi minuti i timelapse sono basati sul movimento e la componente fondamentale del movimento è il motion blur perché così i nostri occhi vedono il movimento nella realtà quindi la giusta quantità di motion blur è cruciale nei timelapse non provo neanche a tradurre motion blur in italiano suppongo che sia qualcosa tipo sfocato di movimento ma direi proprio di chiamarlo motion blur molto meglio il metodo utilizzato in videografia per controllare il motion blur è la regola dei 180 gradi nel caso di timelapse questa regola consiste nell'utilizzare una velocità di otturatore di un secondo quando abbiamo un intervallo tra ogni scatto di 2 secondi una velocità di un secondo e mezzo con un intervallo di 3 secondi e una velocità di 2 secondi con un intervallo di 4 e così via in tutti i timelapse che mostro adesso ripresi con una fotocamera a sensore pieno su cavalletto ho utilizzato questa regola come potete vedere il risultato è molto fluido il motion blur è un fattore che crea o rovina un timelapse o hyperlapse ovviamente per utilizzare una velocità di otturatore così lunga nella maggior parte dei casi dobbiamo utilizzare filtri ND i filtri ND sono in pratica occhiali da sole per l'obiettivo l'unica cosa che fanno è ridurre la quantità di luce in modo da poter utilizzare una velocità dell'otturatore specifica indipendentemente dalla quantità di luce che colpisce il sensore come abbiamo visto prima dobbiamo utilizzare una velocità di otturatore specifica per ottenere la giusta quantità di motion blur pertanto i filtri ND sono fondamentali per i timelapse nella maggior parte delle occasioni vediamo cosa succede senza filtri ND dovendo quindi utilizzare velocità molto più rapide questo è perché non c'è abbastanza motion blur e gli elementi in movimento non appaiono come li vediamo nella realtà per timelapse e hyperlapse vogliamo filtri con un valore medio molto alto per ottenere velocità dell'otturatore molto lunghe nel caso di fotocamere o droni con apertura variabile spesso è sufficiente un solo filtro probabilmente un ND256 o 512 ma diversi modelli di droni hanno obiettivi con apertura fissa nel qual caso è necessario un set di più filtri con valori che vanno da ND68 a ND1000 nei commenti qui sotto trovate il link ai filtri che utilizzo con diversi droni quando si riprende un hyperlapse o timelapse con droni ci sono alcuni fattori specifici da considerare in molti modelli la frequenza minima degli scatti è una foto ogni 3 secondi soprattutto quando si utilizza il tempo di posa a lungo necessario poiché la fotocamera ha bisogno di un po' di tempo per memorizzare ogni foto ma questo non è un grosso problema poiché questa frequenza si atta bene alla maggior parte delle situazioni un fattore limitante e più importante è la durata della batteria poiché ritengo che la durata minima utile per un hyperlapse sia di circa 12 secondi ad una frequenza di una foto ogni 3 secondi sono necessari 15 minuti di ripresa la maggior parte dei droni ha una durata della batteria di circa 30 minuti o meno quindi considerando il tempo per impostare gli scatti e per un sicuro ritorno a casa nella maggior parte dei casi scatteremo hyperlapse di 300 foto con un intervallo di 3 secondi il Mavi 3 ha una durata della batteria molto più lunga di oltre 40 minuti e con il Mini 3 Pro c'è la possibilità di acquistare una batteria speciale di lunghezza simile anche se purtroppo non nella vecchia Europa per qualche strano motivo la durata prolungata della batteria apre ulteriori possibilità per hyperlapse a volte posso utilizzare una frequenza più lunga di una foto ogni 4-5 secondi molto utile quando il movimento proviene dalle nuvole oppure posso scattare hyperlapse più lunghi particolarmente utile per transizioni tra il giorno e la notte come abbiamo visto in precedenza quando si utilizza un intervallo di 3 secondi la velocità dell'otturatore ideale è di 1 secondo e mezzo velocità dell'otturatore ancora più lente sono necessarie con intervalli più lunghi ma con la maggior parte dei droni non utilizzerei una velocità dell'otturatore superiore a 1 secondo per evitare sfocature indesiderate dovute al movimento della fotocamera poiché ovviamente un drone non è stabile come una fotocamera su un treppiedi quindi dobbiamo sacrificare un po' di prezioso motion blur ma i risultati sono comunque accettabili un problema frequente negli hyperlapse con droni è il warping a causa della lunghezza focale molto ampia dell'obiettivo c'è una notevole quantità di distorsione in ogni singola foto se il velivolo oscilla durante gli scatti magari a causa del vento dopo aver stabilizzato l'hyperlapse gli elementi in primo piano sembrano muoversi indipendentemente dallo sfondo questo era molto più evidente con modelli precedenti poiché i modelli DJI attuali sono molto più stabili in volo esistono due modi per ridurre al minimo il problema della deformazione se notate che il drone si sposta più del solito bisogna eseguire le diverse calibrazioni necessarie in particolare l'IMU inoltre è anche meglio evitare di avere elementi in primo piano ravvicinato ma a parte queste limitazioni i droni sono strumenti sensazionali per gli hyperlapse il punto di vista nel cielo apre nuovi territori alla creatività inoltre sono in grado di eseguire ogni tipo di movimento in tutte le direzioni con una stabilità sufficiente per hyperlapse molto fluidi la maggior parte dei modelli dell'attuale linea prosumer DJI ha diverse modalità per hyperlapse compreso l'eccellente waypoint se volete approfondire gli hyperlapse con droni ho preparato una playlist con i miei video più utili inclusi hyperlapse con i modelli specifici DJI e altre tecniche come hyperlapse notturni o come utilizzare la modalità waypoint fate clic su questo link per accedervi le transizioni dal giorno alla notte o dalla notte al giorno si prestano a timelapse molto spettacolari ma non sono certamente i più facili esistono diverse tecniche possibili utilizzando impostazioni fisse o modificando l'esposizione hanno anche bisogno di una seria post elaborazione questo argomento è troppo lungo per essere trattato in questo video ma se siete interessati o aggiunto una playlist con diversi video sulle varie tecniche sia con telecamera a terra che con droni cliccate su questo link per accedervi ci sono due diverse fasi durante l'edizione di un timelapse o hyperlapse prima di tutto modifichiamo i singoli file raw utilizzando un software raw processor io utilizzo on one photo raw che è anche in grado di produrre timelapse il che è molto utile troverete informazioni su questo programma insieme ad un coupon per sconto sul prezzo nella descrizione in basso in questa fase eseguiremo le regolazioni statiche simili alla correzione e gradazione del colore di una semplice foto nella maggior parte dei casi ci saranno alcune differenze di luminosità tra le foto quindi è meglio scegliere una delle immagini più luminose per assicurarci di tenere sotto controllo le luci alte questa hyperlapse del drone inizia con la telecamera appuntata verso il basso in direzione di un villaggio e progressivamente la visuale si sposta verso l'etna con le immagini finali contenenti il cielo è meglio modificare una delle ultime foto poiché sono le più luminose faccio doppio clic sull'immagine per selezionarla dall'istogramma possiamo vedere che la foto è un po' sovraesposta poiché ci sono delle barre che toccano il bordo destro spesso aggiungo un po' di D.A.s per migliorare la struttura del cielo ma nei timelapse non bisogna esagerare perché può causare pessime variazioni di colore poi abbasso notevolmente le ombre e come si può vedere questo aumenta il contrasto questa immagine ha bisogno di ancora più contrasto quindi lo aggiungo con il cursore dedicato l'immagine è ancora leggermente sovraesposta quindi abbasso appena l'esposizione e aggiungo un pochettino di midtone infine abbasso il punto nero e adesso l'immagine mi sembra molto ben bilanciata temperatura è un po' troppo calda quindi spingo il cursore verso il blu molto meglio aggiungo soltanto un pochino di saturazione e adesso mi sembra ottima premo il tasto G per tornare alla visualizzazione in griglia poi premo CTRL o CMD più A per selezionare tutte le immagini e posso quindi cliccare su questo pulsante Sync per incollare le modifiche fatte su tutte le altre immagini dato che abbiamo modificato una delle immagini più luminose potrebbero essercene altre all'inizio un po' troppo scure ma se è il caso ce ne occuperemo nella seconda fase della post elaborazione adesso con le 300 immagini selezionate possiamo cliccare sull'icona Time per generare il timelapse adesso possiamo importarlo nel nostro editor video per la seconda fase di post elaborazione qui è dove stabilizzeremo il video applichiamo l'editing dinamico e se necessario aggiungiamo maschere o effetti speciali utilizzo Premiere Pro ma le operazioni sono quasi le stesse con qualsiasi editore video comincio importando il clip come si può vedere c'è un po' di scigliazione questo è normale negli hyperlapse la stabilizzazione è sempre necessaria quindi nella scheda effetti digito warp e appare questa icona warp stabilizer la trascino sul clip e l'analisi inizia dopo meno di un minuto la stabilizzazione è terminata e adesso il filmato è perfettamente fluido l'hyperlapse manca un po' di elementi in movimento ma per il resto mi sembra molto buono diciamo che vorremmo aumentare la luminosità negli ultimi secondi quando appare l'etna possiamo effettuare tutte le regolazioni dinamiche utilizzando keyframes vediamo come funzionano iniziamo aggiungendo un adjustment layer sopra il clip non è strettamente necessario ma sarà utile per raggiungere una maschera con il layer selezionato andiamo alla scheda lumetricolor e aumentiamo l'esposizione di uno stop adesso la prima parte del clip è troppo luminosa quindi portiamo la testina alla fine e nella finestra in alto a sinistra seleziamo la scheda effect control apriamo il menu basic corrections e in exposure tocchiamo l'icona dell'orologio per impostare un keyframe indicando che a quel punto l'esposizione sarà di più uno stop quindi ci spostiamo indietro nella clip fino al punto in cui vogliamo che l'aumento della luminosità inizi diciamo qui e inseriamo 0 per esposizione un secondo keyframe è automaticamente creato guardando il clip notiamo che la luminosità è invariata fino al primo keyframe e poi aumenta progressivamente fino alla fine se vogliamo che l'incremento di luminosità inizi un po' prima possiamo trascinare il primo keyframe leggermente a sinistra raddoppiamo il valore di esposizione dell'ultimo keyframe per rendere l'aumento della luminosità molto più evidente forse vogliamo un bilanciamento del bianco più caldo nell'ultima parte con l'Etna possiamo impostare altri due keyframe negli stessi punti dei precedenti ma questa volta per la temperatura il primo rimane invariato mentre il secondo sposteremo il cursore verso il giallo ma gli effetti dell'aumento dell'esposizione della temperatura influiscono sull'intera immagine compreso il villaggio non è quello che cerchiamo la nostra idea è di modificare soltanto l'aspetto dell'Etna a questo scopo possiamo utilizzare una maschera applicata sull'adjustment layer con il layer selezionato ci spostiamo all'ultimo frame e nella finestra in alto a sinistra clicchiamo sul rettangolo sotto Lumetri Color sullo schermo appare un rettangolo si può vedere che l'effetto dell'incremento della luminosità e della temperatura ad esso interessa soltanto l'aria all'interno del rettangolo trascinando i quattro angoli possiamo modificarne la forma in modo che copra la parte superiore della montagna ma la transizione è ovviamente troppo brusca quindi aumentiamo il valore Mask Feather fino a ottenere una transizione graduale utilizzando keyframes e una maschera la maggiore luminosità e il bilanciamento del bianco più caldo vengono adesso applicati soltanto alla cima dell'Etna di iscriviti al nostro canale sempre va verificare che la bossa e il bilancio di riscaldi non ci sia una misera e il bilancio di riscaldi che 50% interessa organismi senza